IPR, SRL, pavimenti industriali, pavimenti di resine e clinker, un rispetto alle vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza per industrie. Alimentari, caseifici, macelli, frantori, industrie ittiche, conservifici, biscottifici, panifici, pavimenti per industrie meccaniche, officini, pavimenti per ospedali, case di cura, studi dentistici, impermeabilizzazioni carrabili, showroom, abitazioni, negozi, adeguamenti senza smantellare i pavimenti esistenti, fornitura sistemi di drenaggio canaline inox, IPR, SRL, via Nenni, Falerna Scala, www.resineonline.it